Per te, che cerchi ogni giorno, in ogni istante, l'intensità, l'audacia, la bellezza. Ora è arrivato il momento migliore per scegliere Alfa Romeo. Con il rosso Alfa Days fino al 31 ottobre, Stelvio e Giulia da 299 euro al mese. E scegli la soluzione giusta per te tra noleggio, leasing e finanziamento. Grazie.